Storie di vita vissuta tra gli oggetti di uso quotidiano e nelle stanze di un antico edificio della metà del XII secolo. E Torre e Casa Campatelli, l'unica casa privata di San Gimignano, che apre le porte al pubblico da sabato 16 aprile, dopo essere stata recuperata dal FAI con un investimento di 2 milioni di euro. Oggi ancora una volta si dimostra che una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, soprattutto se il privato è una grande istituzione non profit come il FAI, nell'interesse di tutti gli italiani, può portare a valorizzare al meglio il nostro patrimonio culturale. E poi perché oggi si racconta una storia, si fa una narrazione attorno a questa Torre Campatelli ed è quello che bisognerebbe fare sempre. Torre e Casa Campatelli sono state donate al FAI da Lidia Campatelli nel 2005 e sono state recuperate con un intervento cominciato nel 2011. Esempio di Casa Torre di modello pisano, la struttura era alta in origine 11,5 metri ma fu rialzata tre volte fino a raggiungere l'altezza attuale di 27,6 metri. È una grande festa per la comunità di San Gimignano perché grazie all'intervento del FAI è stato recuperato un bene importante, una Casa Torre, l'unica che architettonicamente è così configurata e il FAI ha opportunamente interpretato la filosofia dell'intervento proprio non solo in termini conservativi ma anche proponendo un racconto della città, un racconto della storia della nostra comunità attraverso gli occhi e la vita di una famiglia borghese che ha attraversato dal Medioevo fino ai giorni nostri diciamo l'intera storia della nostra città e quindi non è solo un'operazione di restauro e di conservazione ma anche di racconto della nostra comunità, della nostra storia, dello sviluppo di San Gimignano, del suo essere città d'arte, del suo essere un fulcro importante nel panorama tra Siena, Firenze e Pisa della Toscana più importante, non solo icona del Medioevo e patrimonio mondiale unesco ma anche snodo geopolitico in tante vicende della storia toscana. La visita prevede due fasi. Nella prima il pubblico viene guidato attraverso un percorso multimediale nelle soffitte al secondo piano dell'edificio mentre nella seconda il pubblico è libero di muoversi al piano nobile ed entrare nell'intimità di una famiglia, sfogliare album fotografici e osservare le stanze come la sala da pranzo, le camere da letto, il salone e lo studio arredate con superlettili che raccontano storie di vita vissuta.